Concessi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico al nisseno di 35 anni arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per stalking e maltrattamenti sulla ex compagna. La GIP Valentina Balbo ha dunque accolto la richiesta di revocare la custodia cautelare in carcere avanzata dall'avvocato difensore Massimiliano Bellini. Secondo l'accusa i maltrattamenti sulla donna sarebbero durati nel periodo in cui i due avevano portato avanti la loro relazione, dal 2009 al marzo di quest'anno. Una volta che la storia si era chiusa l'uomo aveva cominciato a perseguitare la ex sempre con minacce e seguendola per strada, oltre a fare lo stesso sempre secondo l'accusa con il nuovo compagno della donna. Lo scorso 14 agosto li aveva incrociati per strada e li aveva seguiti in auto fino a bloccarli a salire sul cofano della loro vettura prendendo a pugni l'auto.